Il 17 dicembre 2019 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato la prima legge di prospettiva della storia del Parlamento più antico d'Europa. Anche grazie al Presidente Miciche l'Assemblea ha approvato delle disposizioni concernente l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia. Di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno che lo Stato, perché la legge è stata inviata, il disegno di legge è stato inviato per una erronea interpretazione della burocrazia regionale, è stato inviato alle Assemblee Legislative dello Stato ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Siciliana. Oggi abbiamo bisogno che lo Stato, quindi la burocrazia di Camera e Senato, si renda conto che è competenza esclusiva della Regione Siciliana a legiferare in termini di fiscalità di sviluppo. A tal proposito, giorno 10, lunedì prossimo, abbiamo convocato tutta la deputazione nazionale, senatori e deputati, per fargli comprendere che le zone franche montane sono una questione tutta siciliana. E questo lo farà, abbiamo affidato, il compito di spiegarlo al Professore Riccardo Compagnino, che è un esperto, un cultore dello Statuto Autonomistico Speciale della Regione Siciliana, e al Professore Angelo Cuva, che è un tributarista, nonché membro, è stato membro della Commissione Paritetica per in quota Regione Siciliana in passato. Le zone franche montane sono una misura politica economica e servono per rilanciare i territori di montagna della Sicilia che stanno morendo. Negli ultimi 10 anni abbiamo un indice di spopolamento del 9-10%. Stiamo parlando che sono scomparsi 49.000 residenti, come se fosse stata cancellata una città come Mister Bianco. Servono per ridare fiducia alla popolazione residente e soprattutto per ridare fiducia e far ripartire l'economia che ferma completamente, oltre ad essere un'attrattiva per investimenti che provengono anche da fuori dalla Sicilia.